Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come Il ritorno in Rai era annunciato da tempo, ma non si sapeva ancora dove e quando In molti speravano ancora per il festival di Sanremo, ma Fiorello ha stupito tutti Ecco quando partirà il suo nuovo programma su Rai 2, un titolo semplice, viva Rai 2, e sarà uno show del tutto mattutino, in onda dalle 7 alle 8 30. Il ritorno di Fiorello in Rai, può Fiorello stupirci anche alle 7 del mattino? Ebbene si e lo farà, a partire dal prossimo 5 dicembre su Rai 2 In realtà, il suo show partirà già dal prossimo 7 novembre su Rai Play, ma in tv sarà, invece, in onda dicembre 135 puntate, tutti i giorni, anzi, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 8 30. E ci farà compagnia sino al prossimo 2 giugno. Un orario che, sembra, ancora tutto da stabilire, specie nei dettagli, ma una cosa è certa, Fiorello tornerà a farci divertire e a farci sorridere, come ha sempre saputo fare Abbiamo detto, un programma dal lunedì al venerdì ma, per chi fosse impossibilitato a seguirlo, ci sarà anche, il meglio della settimana, il sabato e la domenica, con orario ancora da definirsi Un titolo molto particolare, sulla stregua del suo programma di successo che è andato in onda nelle passate stagioni Una sorta di passaggio da, viva Radio 2, a, viva Rai 2, a comunicare il ritorno in Rai e a spegnere le polemiche nate nei giorni scorsi sul possibile ritorno di Fiorello a Rai 1 nella stessa fascia oraria occupata dal PG1 della mattina, è stato proprio l'amministratore delegato Rai, Carlo Quortes Nuova collocazione, format rinnovato ma lo stesso spirito di divertimento e di show come vuole Rosario Fiorello È stato lo stesso presentatore a ringraziare, pubblicamente, i vertici Rai per il suo ritorno sulla rete ammiraglia, in particolare per essere riuscito a farlo su Rai 2 Rai 2 e il suo programma mattutino, è lo stesso Fiorello a raccontare che, in realtà, non si tratta di un suo battesimo a Rai 2 Nel 1992 aveva fatto il cantagiro e, come lui stesso ha detto, dopo 30 anni di giro, è tornato nuovamente a Rai 2 Il suo approdo al mattino è, sì, qualcosa di nuovo e diverso e che, come lo stesso Fiorello ha dichiarato, tutto ciò ha sempre il sapore di un nuovo inizio All'inizio, la polemica era nata dal fatto che il ritorno di Fiorello in Rai, in fascia mattutina, sarebbe stato su Rai 1 al posto del notiziario Cosa che aveva fatto, non poco, arrabbiare gli stessi giornalisti L'annuncio del ritorno sì, ma Rai 2, ha dato modo anche di smorzare e chiudere tutte le polemiche che si erano venute ad innescare E gli stessi giornalisti di Rai 1 hanno inviato un messaggio di stima ed affetto proprio allo stesso Fiorello, il quale, alla fine della sua dichiarazione, li ha pubblicamente ringraziati, augurando loro di lavorare sempre al meglio Un ritorno in Rai che tutti si aspettavano e che attendevano con ansia, nonostante le polemiche createsi Un ritorno, anche, su Rai 2 per Fiorello ed una fascia oraria del tutto alternativa ed innovativa che farà, svegliare, gli italiani nel migliore dei modi Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video